Ciao Anna Maria, comunque appena attraversato Formia volevo salutarci, ci stiamo dirigendo del sistema dove tu stai in villeggiatura, ciao, come ti avevo detto sono gli amici del gruppo di Gualiano, come tu vuoi ben vedere, comunque ti auguro una buona vacanza, un continuo di queste vacanze, da parte mia, comunque mi piaceva le giornate, non è molto accaldate, siamo qua sulle strade, non ci porterò, ciao, scusa io devo fare un saluto a una mia amica di nome è Anna Maria, c'è Anna Maria che sta a Scavoli, sta in vacanza, ciao, Anna Maria questo è il mio presidente, un uomo tenace, è una cara amica che sta in vacanza a Scavoli, stamattina sono passato di là e un pensiero è volato a lei, ciao Anna Maria, comunque ci troviamo in località Itri, bella zona di campagna, ci aspetta qualche saletina, fino al santuario, comunque eccomi qua, tutta la mia bruttezza, a Giulio ciao